Un numero complessivo di 400 partecipanti giovanissimi tra i 7 e i 12 anni, da più di 12 province. Cremona l'11 settembre accoglierà un nutrito gruppo di ciclisti per il Trofeo Lombardia. La gara riservata alla categoria giovanissimi, quindi 7-12 anni, quindi parliamo di mini-atleti. La manifestazione avverrà non tanto per squadra di club ma per una selezione provinciale che tutte le province della Lombardia effettueranno e porteranno i loro mini-atleti qua a Cremona. Pertanto i numeri dei partecipanti si aggireranno a un numero certamente superiore ai 400. La location è tra le migliori del panorama regionale, per servizi e comfort. Diciamo che la scelta di effettuare la Cremona è una scelta che in Lombardia fanno tutti molto volentieri perché l'impianto Alpo di Cremona è un impianto unico veramente in Italia. Ce ne sono pochissimi dedicati esclusivamente al ciclismo e maggiormente posto all'utilizzo alle categorie giovanili, quindi in completa assenza di traffico, in un parco naturale, in mezzo al verde. Per cui naturalmente non sarà soltanto una giornata riservata allo sport ma ci auguriamo anche una giornata di svago per i partecipanti e per le loro famiglie. Tutti i partecipanti rappresenteranno i colori provinciali e non quelli dei club di appartenenza per un gran movimento ciclistico giovanile a Cremona.